Ciao ragazzi, sono SuperSeva, buonasera a tutti. Finita questa seconda e ultima amichevole, prima di avvicinarci ad Euro 2024, abbiamo vinto 1-0 nel primo tempo, ha segnato Frattesi con questo bellissimo tiro al volo, al quale ha fatto un bellissimo golasso al volo tirando di collo piede e il portiere bosniaco non ci ha potuto far nulla. Allora, adesso che sono finite queste due partite amichevoli, a parte il pareggio a Bologna contro la Turchia 0-0, che poi è nel girone con Repubblica Ceca, Portogallo e Georgia, e noi ci aspetterà la nostra gara d'esordio a Dortmund contro l'Albania, e da lì non si deve scherzare contro l'Albania, perché appunto l'Albania non è una top squadra, a parte quelle e le altre due che abbiamo nel girone, la Spagna e la Croazia. Cioè, io vedendo nuovo quel girone, io comincio un po' a preoccuparmi, e sarà tosto come affrontare non solo l'Albania, ma anche la Spagna, ma anche la Croazia, e però arrivando tra le prime due bisogna arrivare agli ottavi, e poi i terzi come miglior terza del girone, e vediamo come presentarci. Ho letto un sacco di commenti di alcuni che, a parte quelli positivi e negativi dei tifosi italiani, tutti che pensano che in quel girone di ferro usciamo, faremo la fine come quello che è successo nei mondiali del 2010, che io all'epoca avevo 11 anni, e sapete com'è andato a finire, se non passiamo il turno, facciamo la fine del 2010, quando siamo usciti con il Paraguay, Slovacchia, Nuova Zelanda, e tuttanto, è perché non doveva convocare questo, ecco perché non doveva convocare questo, è perché abbiamo quello, a parte la convocazione di Foro D'Uncio, che di questa cosa a me non mi ha convinto, e non è per buttare fango a questo, a quell'altro, è a quello lì, ma voi che cosa andate a scrivere a fare sui social? Cosa andate a scrivere? Cosa andate a scrivere? perché se noi dovessimo iniziare male la fase gironi, per fare la fine, come quello che è successo nel 2010, quando siamo usciti con Slovacchia, Paraguay e Nuova Zelanda, e se l'Italia, se l'Italia dovesse giocare malamente così, come contro la Turchia, senza far gol, e poi l'altra che nel primo tempo si è vista che la squadra ha reagito, dopo che abbiamo fatto l'1-0 con Frattesi, ma poi cosa scrivete a fare? Ma cosa scrivete a fare? Cioè voi veramente, ma siete veramente fuori di testa, cioè ma io, ma come vi permettete di andare a scrivere roba del genere, che voi siete dei pessimisti, che voi dite, se facciamo un'ennesima figura, rischiamo di uscire dal girone, addio titolo, dalle stelle alle stalle, bla bla bla, lasciamo stare ragazzi, comunque, io dico, solo la mia di quello che penso, per evitare tutto ciò che, di questi certi commenti di alcuni tifosi pessimisti, che la pensano malamente, per quanto riguarda il girone, vediamo prima l'esordio come affrontare l'Albania, che è il modulo anche per come preparare a Spalletti, io dico che con l'Albania bisogna vincere, poi con la Spagna sarà difficile, perché l'anno scorso ha vinto la Nations League, e poi con la Croazia, anche qui sarà tostissima ad andare ad affrontare, perché ci hanno giocatori di valore come Modric, che lo conosciamo, perché gioca nel Real Madrid, e poi gli altri che conosciamo, della Croazia, Brozovic, che in Arabia Saudita, che gioca nella scuola di Ronaldo, Pasalic, e poi Guardiola del Manchester City, ed altri, e poi dell'Albania c'è qualcuno, che c'è Jim City, Isai, Bayrami, e l'altro portiere, che una volta giocava nella Lazio, ed è Stracoscia, e poi l'altro invece, non so chi ci sia, nei 26 convocati della formazione albanese, e dal mio punto di vista, mi auguro di arrivare come minimo secondi, a parte la Spagna, che è l'unica che non la dovevamo prendere, se non prendevamo la Spagna, potevamo prendere un altro giro durante il sorteggio, possiamo cercare di almeno arrivare come minimo secondi, per non buttare via troppi punti, a parte vincere l'esordio con l'Albania, è fondamentale, giusto per fare bella figura, e poi vai a giocare con la Spagna, che poi con la Spagna te la vai a giocare alla pari, sfinando una delle squadre più forti dell'europeo, e lì ti aspetta di andare a giocare una delle partite più difficili, poi con la Croazia, anche lì bisogna cercare di provarci, perché l'obiettivo è quello di superare il girone, che è anche quello che ogni squadra che gioca un campionato europeo, ed è importante arrivare primi, secondi, o come terza migliore del girone, ma comunque io ho fiducia, ho fiducia e spero di arrivare come minimo secondi, e cercare di non fare brutte figure, io comunque come avevo già detto, speriamo di vincere con l'Albania, poi vediamo con la Spagna, e poi con la Croazia, in pezzo per pezzo, vediamo come ci presenteremo in Germania, e non mi venite qua sotto nei commenti a dire, perché se noi dovessimo fare brutta figura, faremo la fine come nel mondiale 2010, quando uscivamo fuori dal girone, perché siamo campioni in carica, ma l'obiettivo è quello di difendere il titolo, almeno di provarci, e comunque io ho fiducia, almeno con la squadra, che proverà a fare bella figura, che poi quando giocheremo all'esordio con l'Albania, e quindi vediamo come affrontare questo girone, che non vedo l'ora che iniziano gli europei, e non solo vedendo la nostra nazionale, ci saranno altre partite bellissime, va bene ragazzi, questo è quello che vi volevo dire, e se vi è piaciuto lasciate mi piace, commentate, iscrizione al canale, mettete la campanella, quello spesso è ben tutto, e noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima!